Benvenuti in un nuovo video, se io ormai faccio sempre così Oggi siamo qui da come detto dal titolo per provare questi biscotti Sono dei biscotti proteici della Carbchilla, cioè della Granade Questi biscotti li trovate su All Supplement Come sempre per qualsiasi ordine di All Supplement Avete il mio coce sconto che è già a 0.10 Tra poco arriveranno sul canale davvero tantissimi video sfiziosi Quindi mi raccomando restate sempre connessi Io inizierei da il semplice, il più classico proprio Perché questo qui che è doppio cioccolato Sono dei biscotti, si presentano così da 50 grammi Ogni biscotto, cioè 25 grammi di biscotto Ha 111 calorie, 5 grammi di grassi, 11 grammi di carbo e 6 grammi di proteine All'interno ce ne sono due Che buon profumo Si è attaccato Si va ben rotto anche la confezione No, si sono attaccati Ce la posso fare Eccolo qui, ho fatto un macello sul mio pantalone Tra poco ragazzi iniziano anche a sciogliere Eccolo Ricoperto di cioccolato quindi Assaggiamo Cioè questa parte all'interno Tipo Sì l'interno è più dark chocolate E sopra il cioccolato normale Ma è bellissimo C'è la che è buonissima C'è questa cosa di croccante E poi sopra morbido Finiamoci lo secondo E' un biscotto semplice Con tutte le mani sporche Che sa di cioccolato Però ragazzi devo dire la verità Ho distrutto la confezione Ma molto molto buono Cioè ragazzi ho fatto un macello Non vi dico il mio pantalone Sì guardate qui pure Vabbè Io mi devo stare attenta Perché questa maglia si alza Però penso che non si vede da là Cioè ragazzi questa maglia si è rimpicciolita Ma ok Quest'altro qui E' la stessa versione Infatti ne trovate sempre due Questa è salted caramello Quindi caramello salato Per quanto riguarda i valori 109 calorie 5 grammi di grassi 4, no 10 grammi di carboidrati E 6 grammi di proteine Ma allora ragazzi sono buonissimi Questo profuma tantissimo Di caramello se senti tanto Vi consiglio di metterli in frigo Come lo devo aprire Se io do un morso direttamente Così lo faccio prima Però lo voglio staccare No ragazzi è lo stacco Si scioglie tutto Vabbè Assaggiamo Incidente di percorso Buonissimo Ragazzi si sente pure di sale Ve lo giuro Ottimo morsetto Allora Io devo buttare in lavatrice Proprio Allora Tra i due Preferisco Questo qui Che da blue chocolate Per il semplice motivo Che io Quello lì caramello Si sente di caramello Ma è troppo forte Però è buona Solo che se amate Quelle cose un po' salate Un po' dolci Non so ragazzi L'ho trovato troppo caramelloso Però ovviamente Gusto personale Sicuramente Sarò piena di cioccolato Ovviamente Gusto personale Quindi per il mio gusto personale Io Riacquisterei Double chocolate E non caramel Però se li volete provare Sono entrambi Buoni Tutti e due Pensate tipo Su un porridge Caldo Che si scioglie Assurdo Anche quello caramello E quindi Entraga Questo video Penso che sia durato 5 minuti Però Ci tenevo tanto A provarli Io mi devo pulire Il pantalone Perché Raga Il pantalone È pulito Ok Quindi Entraga Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Se questo video Vi è piaciuto Lasciate un pollice In su Ti iscrivetevi Al canale E ci vediamo Nel prossimo video Ciao